CapCut vince su tutte! È la migliore applicazione di montaggio video per funzionalità e gratuità. Questo è valido al momento in cui registro il video e non so quando tu lo vedrai. In ogni caso, in questo episodio ti mostro le 8 funzionalità che ti faranno innamorare di CapCut. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a chi vuole creare video ad iniziare dal proprio telefonino che è perfetto sia per girare che per montare i tuoi video. E se il tema ti interessa iscriviti al canale perché troverai certamente contenuti interessanti negli scorsi episodi e anche in quelli futuri. Negli ultimi anni le applicazioni di montaggio video per telefonino non solo sono performanti quanto i programmi desktop, ma in alcuni casi hanno funzionalità sperimentali che fanno un uso avanguardistico dell'intelligenza artificiale e questo è il caso di CapCut. Ma andiamo con ordine. Questo non è un tutorial basico di CapCut. Le funzionalità di video editing sono più o meno sempre le stesse e sono simili ad altre applicazioni di cui ho già parlato all'interno di questo canale. L'episodio è dedicato invece a mostrarti le funzionalità più sperimentali dell'applicazione. Questo per stimolare la tua creatività e anche per mostrarti le potenzialità e i limiti dell'intelligenza artificiale. Iniziamo dai sottotitoli automatici, che è quella meravigliosa funzione che riconosce quello che dici e lo trasforma in testi da aggiungere in sovraimpressione al tuo video. La funzionalità la trovi sotto la T di testo sottotitoli automatici. Puoi scegliere diverse tracce audio o quella del video oppure un'altra traccia audio come ad esempio la voce fuori campo che puoi registrare direttamente nell'applicazione per spiegare, accompagnare, raccontare le immagini. Va detto che il riconoscimento vocale è accurato anche in italiano, ma è sempre meglio ricontrollare tutto peed ramping, che se non lo conosci è questo effetto qui. Quindi non solo si velocizza o rallenta un video, ma si mostra anche il processo di accelerazione e decelerazione. Credo che tu lo abbia già visto perché è davvero molto comune sul web per dare enfasi al tuo racconto. La funzione la trovi in modifica, velocità, curve. Puoi partire da un modello di curva già fatto e poi personalizzarla come vuoi aggiungendo e togliendo fotogrammi chiave. Personalmente trovo che questa modalità di visualizzare la velocità attraverso delle curve è parecchio immediata ed efficace, anche rispetto ad altri programmi desktop e professionali che utilizzo normalmente. Correzione del viso. Gli effetti che puoi fare sono questi. Ritoccare la pelle, la luminosità e la texture per attenuare le imperfezioni. Non credo ne valga la pena, ma è giusto sapere che esistono questi effetti anche per saperli riconoscere nei video in cui ci imbattiamo. Per trovare la funzionalità devi andare in modifica, scorrere fino in fondo, selezionare migliora e poi viso. Correzione del corpo. Come puoi migliorare il viso? La stessa cosa la puoi fare con il corpo. Devi salire di un livello e quindi sei in modifica, migliora, corpo. Le operazioni che puoi fare sono snellire il girovita, snellire le gambe, allungare la figura oppure ridimensionare la figura. Ecco, va detto che l'intelligenza artificiale riconosce i contorni del corpo se c'è un forte contrasto tra la persona e lo sfondo. Se i colori sono simili si rischia poi che non vengano riconosciuti i contorni, la sagoma del corpo. Sull'opportunità di utilizzare questi strumenti, quantomeno in senso estetico, lascio la parola anche a voi nei commenti perché mi interessa davvero sapere che cosa ne pensate. Gli effetti di scontorno del corpo sono effetti speciali veri e propri, quelli che si fanno notare come scie di luce o sfondi improbabili e li puoi capire meglio dalle immagini che dalle mie parole. Non te le sto a elencare tutti perché sono tanti e in costante aggiornamento. Li trovi sotto effetti e effetti corporali. Ecco, alcuni di questi effetti sono già noti a chi utilizza filtri di realtà aumentata come quelli in Instagram, TikTok, Masquerade o altri. Ecco, la possibilità però di inserirli in post-produzione apre secondo me delle interessanti possibilità creative. Importazione di font. Perché in CapCart tu puoi installare qualsiasi carattere tipografico che tu hai salvato sul tuo telefonino. Ecco, non è proprio una funzionalità spettacolare come le precedenti, ma è incredibilmente utile. Perché ti permette di dare coerenza alla tua immagine sia nella grafica statica che quella in movimento che va a completare i tuoi video. Inoltre puoi anche installare le fonti decorative che altre non sono che collezioni di simpatici disegni con cui poi puoi andare a decorare il tuo video. Ti spiego come fare perché non è semplicissimo trovare quest'opzione. Clicchi sulla T per testo e vai poi a selezionare lo stile. Clicca su carattere e poi sul più e poi devi cercare all'interno del tuo telefonino il luogo, il percorso in cui hai salvato la font che hai precedentemente scaricato dal web. Le maschere per il viso che vanno dal classico rettangolino che abbiamo visto spesso in televisione per tutelare la privacy a cose più creative come sostituire il viso con un effetto, un'immagine in stile cartone animato. Ecco li trovi sempre tra gli effetti, effetti corporali, immagini o maschere. Queste funzionalità sono utili nel momento in cui riprendi una persona che non vuol farsi vedere. In questo modo puoi utilizzare lo stesso il tuo filmato. Le transizioni eccentriche. Avete presente? Le transizioni sono quegli effetti visivi che segnano il passaggio tra un video, una clip e quella successiva. La transizione più classica è la dissolvenza in cui un'immagine sfuma gradatamente in un'altra. Ma CapCut ne ha veramente un'infinità da animazioni colorate in sovrapposizioni a improbabili movimenti del tuo video. Li puoi scoprire tutti selezionando quel quadratino che sta tra una clip e la successiva e poi sfogliando tutte le transizioni che CapCut ti propone. Il fatto che CapCut ti proponga tante transizioni non significa che tu le debba utilizzare tutte e soprattutto tutte insieme. Queste sono solo alcune delle funzionalità spettacolari di CapCut. Appunto 8 perché mi piaceva il numero. Ti dà però un pochino l'idea di quelle che sono le potenzialità creative e anche le prospettive che l'intelligenza artificiale apre anche nel campo del video. Mi interessa sapere, magari me lo lasci scritto nei commenti, quali sono le funzioni che interessano a te. Se quelle più spettacolari oppure quelle più basilari. Lasciami scritto tutto qua sotto così mi sai aiutare per i prossimi video che girerò. E se quest'app ti è piaciuta lasciami un tuo like così le dedicherò altri tutorial in futuro. All'argomento girare video con un telefonino ho dedicato una guida Crea il tuo set tv dove do tante indicazioni utili per iniziare ad autoprodurre il tuo video iniziando proprio dal tuo telefonino. Puoi riceverla gratuitamente lasciandomi l'indirizzo qua di fianco e iscrivendoti alla newsletter che solitamente invio una volta al mese. E ora metti le immagini della tua storia per creare la visibilità che meriti.